Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video breve dove come avete detto dal titolo è confermato che il prossimo aggiornamento arriverà questo martedì e inoltre è possibile già prescaricare l'aggiornamento, è una cosa che sta facendo Rockstar Games da praticamente 6 mesi, già con lo scorso aggiornamento hanno fatto una cosa simile, infatti su Playstation 5 e Playstation 4 come vedete c'è questo aggiornamento da 6 giga. O almeno su PS5 è di 6.2 giga dato che ci saranno dei contenuti extra come ad esempio gli animali che verranno inseriti nell'online, su PS4 peserà un po' di meno, su PC l'altra volta non l'hanno messo quindi immagino che anche questa volta non lo metteranno per il semplice fatto che altrimenti i dataminer vanno a trovare tutti quanti i contenuti dell'aggiornamento quindi se siete su PC lo potete scaricare appunto martedì 12 alle 11. Su Xbox ancora non è uscito nulla, in caso vi tengo aggiornati, se trovate qualcosa insomma scrivetelo nei commenti ma dovrebbe uscire anche su Xbox perché se non ricordo male l'ultima volta era uscito. In ogni caso vi ricordo nuovamente di passare dalla descrizione e di attivare le notifiche alla live che faremo martedì 12 dicembre alle 11 quindi ovviamente alle 11 saranno in live per vedere l'aggiornamento insieme e poi ovviamente arriveranno tutti quanti i video come al solito dell'aggiornamento di GTA Online quindi vi invito anche ad attivare le notifiche. Insieme ai vari gruppi Telegram, canale Whatsapp e via dicendo. Questo video brevissimo vi sia stato utile, vi ringrazio veramente tanto per la visione e noi ci vediamo al prossimo video.